Edo, ti fiamo tutti per te, è un gruppo attivissimo. Tu ovviamente sei la mamma di Edo e cerchi di raccontare un po' gioie e dolori di convivere con una malattia rara. Ecco, la città ti tende una mano con uno spettacolo particolare. Sì, praticamente io ho parlato della malattia del bimbo da sempre. La città di Spezia, sin dall'inizio, ha accolto questa mano verso di noi. È la prima volta che fanno un evento così grande nel comune di Spezia, veramente. Grazie alla compagnia al palcoscenico. Con questo spettacolo raccoglieranno fondi per sostenere le tantissime terapie riabilitative private che facciamo sin dall'età del bimbo che aveva tre mesi. Perché comunque serve sostenere sempre il bambino, renderlo sereno e stimolarlo il più possibile. Perché comunque lui ha quasi sei anni e negli anni i progressi si sono visti. Grazie ovviamente a tutte le persone che ci aiutano. Edo è la dimostrazione che per tutto l'amore della famiglia e l'attenzione degli altri possono fare davvero dei grandi passi. La differenza. Perché grazie alle persone le terapie sono tanto costose. senza le persone che comunque col suo cuore ci hanno sempre aiutato. Ma dallo Spezieno, anche in giro per l'Italia, siamo riusciti sia a fare terapie riabilitative qua a casa e comunque andiamo anche in Slovacchia dell'anno scorso a fare due settimane intensive in un centro specializzato all'avanguardia per la riabilitazione. La compagnia che mi onoro di presiedere tutti gli anni fa almeno uno spettacolo per beneficenza o associazioni del territorio. E quest'anno il consiglio direttivo ha deciso, venuta a conoscenza della situazione di questo bambino, ha deciso di aiutare il bambino. Dico la verità che eravamo un po' spaventati all'idea di andare al circo. con una piccola compagnia come la nostra, amatoriale, abbiamo pensato di rivolgerci al Comune per vedere se si poteva dare una mano. E dico la verità, siamo rimasti i basiti per la disponibilità che ci ha dato il Comune. Veramente di cuore ringraziamo il Comune e tutti gli sponsor che sono in Locandina che ci hanno aiutato in questa impresa. Il Comune ha dimostrato di avere un cuore grande per aiutare questo bambino, Edo, concedendo gratuitamente il teatro civico a questa compagnia. Lo scopo nostro è quello di stare vicino a tutte le persone che soffrono e quando troviamo occasioni come queste dove ci sono delle persone stupende che mettono in scena una rappresentazione teatrale finalizzata a aiutare, in questo caso Edo, il Comune non può che essere al loro fianco.